E oggi concludiamo anche questo bellissimo prospetto, che è di una bellezza straordinaria. Recuce la città tra il centro storico, la piazza Duomo, che è l'alto della dieta, con una fontana che richiama quella della Venano, con l'acqua che cade all'enzuolo. E' un prospetto di una bellezza straordinaria, elegante, con la pietra nera, con la pietra bianca e con la pietra rosa. E tutto questo naturalmente anche con una fontana che ha questo particolare valore. E' un giardino verticale che è il secondo più grande in Italia, dopo quello di Milano. I 130 metri quadri di giardino verticale che fanno di questo prospetto un luogo ben elegante della Catania del 21esimo senso. Oh, sta bene, ma pensate che mi bagnate? Oh, sta bene. Oh, sta bene. Ah, ma pensate che vi Grazie a tutti